lo dicevo io e quindi loro che non vedono niente tu non hai visto no cazzo non ho fatto la doppia uccisione vabbè ma contento fa comunque stile voi non avete visto nulla tensione tensione ma non c'è no contento non ha specificato come scendere qualcun cazzo riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire a riuscire praticamente siamo quasi entrati vedi tu vabbè la città dicevi? scusa per la breve interruzione ma ho avuto un po' da fare prima o poi scommettiamo che figata dai attaccate uno uno di voi quel bel vetico il nuovo figlio e complimenti secondo me aspettate per molto perché io aspetto voi ma non c'è non c'è ma non c'è ma non c'è ma ma non c'è capo ne sono sopravvissuti due dai coraggio mi sto annoiando ma perché non riesco a contattaccare quasi mai con la mini lama con la lama nascosta è troppo difficile e se questi poi oh e che cazzo ah madonna io non pulisco qua eh quindi andiamo per meraviglioso e siamo penetrati a castel sant'angelo signori no sono san pietro là dove cazzo stiamo quindi sapete che vi dico che facciamo ancora i bastardi e finisce qua questa gameplay della yehaya scusate un saluto qui con bob not e valena notato e babbo